Non sempre si cade dopo una scivolata Volete provare? Sigla! Prima di cominciare a ballare bisogna riscaldare i muscoli Concentriamoci sulle gambe Prendiamo la gamba destra Sinistra Apro Vado a destra Vado a sinistra Al centro E lentamente risalgo Bene, adesso cominciamo a danzare Oggi impareremo uno dei passi base della danza hip hop Lo slide Vai, Phil! Forse era un po' troppo veloce Rivediamola in rallenti Questo è uno slide che significa scivolata Può essere effettuato a destra, a sinistra, in avanti e indietro Avete capito? Andiamola a provare insieme Cominciamo Cominciamo Gamba destra su A fondo Scivolo E chiudo Sinistra su A fondo Scivolo E chiudo Stessa cosa davanti Alzo A fondo Scivolo E chiudo Ripetiamo di nuovo Alzo gamba destra A fondo Scivolo E chiudo Sinistra Alzo A fondo Scivolo E chiudo Avanti Alzo Affondo Scivolo E chiudo Bene, ora il ritmo Musica Bene, adesso che abbiamo imparato il passo Coreografia Che ne dite? Vi è piaciuta? Impariamola insieme Si parte con le gambe chiuse Andiamo con la gamba sinistra in avanti Pugno destro E chiudo Slide a destra Il passo che abbiamo imparato oggi E chiudo Porto avanti la destra Indietro Scendo giù E mi rialzo Di nuovo un po' più veloce Riprendo Sinistra avanti Chiudo Slide Chiudo Destra su Indietro Vado giù Mi rialzo Di nuovo Sinistra Chiudo Slide destra Chiudo Sudestra Vado indietro Vado giù E mi rialzo E adesso al ritmo di musica Bene La lezione è finita Ma il divertimento continua Balla lì Ciao ragazzi Carlotta e Simona Decisero di andare a prendere una boccata d'aria Si stesero sul prato umido per parlare Quando un'ombra Passò davanti a loro Si chiama Moreno Donadoni Ed è il primo rapper ad entrare nella scuola di amici C'è un po' più veloce